Lecce dai campi di concentramento nazisti al muro di una struttura che accoglie migranti a maglie. Lecce. La scritta Arbeit Macht Frey. Il lavoro rende liberi. Comparsa nella notte su un edificio in via San Domenico Savio. Vernice nera e lettere in stampatello per veicolare un messaggio affatto velato. Dopo che nei giorni scorsi sui social network alcune persone avevano postato commenti razzisti nei confronti dei migranti nel centro. La scritta sul muro a maglie. Foto di sinistra italiana a maglie. Storia quasi identica a quella accaduta da Lezio. A pochi chilometri di distanza. Dove è stato realizzato un altro centro per stranieri in attesa di asilo che ospita 18 persone. Anche in quel caso la rabbia xenofoba si era manifestata nelle scorse settimane su Facebook e di notte cinque biciclette appoggiate al muro del centro e quotidianamente utilizzate dai migranti. Sono state bruciate. A maglie il messaggio anti-migranti stato invece veicolato dal moto tratto da un romanzo dello scrittore Lorenz Diefenbach, utilizzato per la prima volta dai teveschi nel campo di Dachau nel 1933. In seguito la scritta Arbeit Macht Frei comparve in altre strutture di detenzione, compresa Auschwitz, e nei decenni successivi ha assunto un forte significato simbolico. Le indagini finalizzate a identificare le persone che hanno effettuato la scritta sul centro di accoglienza di maglie sono affidate ai carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo e documentato la presenza di quella frase dal sapore fortemente intimidatorio, altro su MSN, Napoli, Ressa e Spintoni all'Ufficio Immigrazione tra richiedenti asilo, Repubblica TV, riproduci nuovamente video, IMPOSTAZIONE NON attivo, HDHQSDLO.